Ciao a tutti, bentrovati in questo nuovo video, un saluto a tutti da Max, eccoci qui pronti per parlare di Gossip TV, per prepararci! Non possiamo non arrivare preparati a Sanremo 2023, dovremo sempre informarci per quanto è possibile, sapere le novità, magari non troppo in anticipo, altrimenti sono false novità. Amadeus sappiamo che ha fatto un altro colpaccio e c'è un'notizione di poco fa che riguarda l'annuncio di una nuova co-conduttrice per la kermesse musicale più famosa da noi, da noi, insomma, in Italia. Questa comunicazione segue di poche ore la rivelazione del direttore artistico in merito ai big che poi si sfideranno nel mese di febbraio, il solito mese in cui c'è la battaglia musicale. In totale i partecipanti saranno ben 28 e 22 sono stati annunciati dal conduttore, mentre gli altri 6 usciranno fuori dalla classifica di Sanremo giovani, infatti su 12, ben la metà, riuscirà ad approdare all'Ariston. Dunque Amadeus avrà al suo fianco un'altra figura molto importante, oltre a quella di Chiara Ferragni, che era stata già data per certa. Prima di dire di chi si tratta vi ricordo che ci sono veramente un sacco di persone, un sacco di partecipanti, ma vogliamo sapere il piatto prelibato, cioè fanno parte di questo, articolo 31, Helody, Colapesce, Di Martino, Ariete, Modammara, Sattei, poi Leo Gasman, i cugini di campagna, Mr. Rain, Marco Mengoni, Anna Oxa, Lazza, Tananai, Paola Chiara, LDA, Madame, Gianluca Grignani, Rosa Chemical, poi Comacose, Levante ed Ultimo. Insomma, tanti big l'abbiamo riconosciuti, alcuni nomi nuovi e alcune potrebbero rivelarsi come belle sorprese. Comunque Amadeus potrà contare su una co-conduttrice molto seguita e apprezzata per il suo modo di lavorare e sicuramente diverso rispetto agli altri. Questo annuncio è arrivato tramite la piattaforma Twitter del Festival di Sanremo, quindi parliamo della pagina proprio ufficiale. E nella prima mattinata di quest'oggi è arrivata la conferma che ha già raccolto i primi consensi. Infatti c'è subito chi ha scritto Eh, grazie Amedeo, grazie Mammarai, grazie Palinsesto per aver rallegrato questo lunedì con la sua presenza. E quindi insomma una persona bella ambita. E la comunicazione social di Sanremo è stata Francesca, buongiorno e benvenuta. Che bilba si sente? Francesca Fagnani tra le co-conduttrici di Sanremo 2023. Oh, all'anima du spot. Quindi la conduttrice di Belve affiancherà Amadeus e raggiungerà la Ferragne Gianni Morandi, che già sono stati comunicati precedentemente. Ed ecco altre reazioni del popolo del web che ci fa capire quanto amano già questa donna. Ah, almeno una gioia questo lunedì. Bella! Ti lo diamo e ti benediciamo per questa co-conduzione immensa. Ah, sì 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 sì, la mia belva preferita. Tanti, tanti commenti belli e gaiardi. Francesca Fagnani, lo ricordiamo classe 1976, è una giornalista e conduttrice TV che conduce Belve su Rai 2 dal 2021. In precedenza l'aveva presentato nel 2018 e 2019 sul canale 9 e lei è anche nota per essere da nove anni la compagna del collega Enrico Mentana. Oh, lui lo conosciamo di sicuro. Questo è tutto signori per questo video, vi ringrazio per l'ascolto, noi ci sentiremo alla prossima notizia utile, sempre qui su Pausa Caffè.